Cosa ne pensate di riscaldamento globale, cosa ne pensate? Che è un problema serio, che è un po' trascurato dall'opinione pubblica. Mi pare che se non sbaglio un po' di scienziati è andato all'ultimatum, ho sbaglio, che abbiamo già superato il limite di sostenibilità del pianeta. Sì, va bene, è che è un problema che deve essere risolto. Secondo me il global warming è molto importante, sono da Francia e ho solo visto Roma per la prima volta. Non lo so, ho trovato questo abbastanza dottato, ma anche in Parisi. I politici devono investire e migliorare alcune riforme, alcune leggi, eccetera, per il global warming. Lei cosa ne pensa il fatto che Donald Trump abbia riaperto le miniere di carbone? Che un coglione! Sempre sperando di non andare in tv con sto video. No, vabbè, Donald Trump, lo sappiamo. Penso che non ci siano gli italiani che lo stimino, spero. Forse i salviniani, non lo so. È anche una stupidaggine, non molto motivata. Wow, questa è una domanda molto buona domanda. Ok, quindi Donald Trump ti dice? Sì, sì. Sì? Donald Trump è molto, molto... Non so, in francese abbiamo una visione particolare di Donald Trump, e quindi magari in Womb 2. Siamo molto aiutati questo personaggio, quindi non so. Trump, no way. Lei pensa che ognuno di noi possa fare qualcosa per evitare il riscaldamento globale? Sì, sicuramente i riscaldamenti delle case, delle abitazioni, si potrebbero ridurre. Un sacco di gente vive con troppi gradi in casa. E poi forse anche sull'alimentazione, non lo so, ridurre un po' il consumo di carne. Non dico abolirlo perché sono contrario ai vegetariani o ai vegani. Però modificare un po' la dieta, renderla un po' più equilibrata potrebbe fare qualcosa, no? Certamente, certamente. Forse anzi è la cosa principale, tutte le piccole azioni, come... Pensando a voi, per esempio, spegnere la luce di camera quando non ci state, o non far scorrere l'acqua mentre vivevate i denti, insomma, questo genere di cose, sono piccole azioni che però possono fare la differenza. I think the political people can do something if they do a petition or something like this. We have some yellow trash, green trash, we can make compost, something like that. So, every people can do something, but politicians and industries, societies must do really, really, really hard than people, because they made pollution more than us. Like, I don't know, toxic, toxic thing, I don't know. Maybe industries must improve better than us.